Benvenuto in Catalonia. Ora stiamo i catalani combattendo perché lo c'è l'AIGA, un paese dove si può godere della libertà. Catalonia vuole essere un paese come gli altri. Noi abbiamo aspettato questo momento per tre secoli. Vogliamo il nostro posto in Europa come un paese indipendente. Non fate lo contro chiunque, se non a favore del nostro paese. Per favore, vogliamo essere liberi e vogliamo che continui a godere il nostro paese per tornare a un indipendente Catalonia, entrare e vedere i progressi privi di Catalonia. Buona fortuna e grazie per la vostra attenzione.